Buon pomeriggio, buon pomeriggio, Berto, guarda Berto, Berto, eccoci qua a casa Gala, casa Gala, era serenato, è venuto fuori anche il caldino, quindi siccome mi hanno portato a casa al vino non possono raccontare una barzellettina sui ciocchi, sugli ubriachi, no? Ed è questa qua, che è? Allora sai, due ciocchi vanno a casa e lo fanno i piedi, meno i mandi, i mandi, i mandi, i mandi e abitavano nel stesso condominio, uno al primo piano, uno al secondo piano, entra al primo, al primo piano aveva, sai, lo specchio, quando entri in casa, che è lo specchio per apprendere le api, apre, si vede, or che puttana, lei è un lari, canciare, beppi, veniamo, per l'amor di Dio, beppi, veniamo con l'aria, arrivo, lo spacchiamo, lo ammazziamo, lo spacchiamo, lo spacchiamo, lo spacchiamo, apri, si vedono specchiati, sono in due, si ha rimediato, io, basta, e in cara, pensa, arriva, basta, un pattore carabinieri, maresciallo, venga su, brigadiere, maresciallo, venga su, insomma, brigadiere, arriva su, consiglio, due ladri, ladri in casa, venga su, insomma, arrivano su, aprono piano, 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 aprite piano, primo piano, brigadiere, aprono piano, si fermano, ma non fatemi perdere tempo, cosa mi chiamate, che c'è già il mio collega, signori, questa sera alle ore 21, io sono in diretta con, su una pagina, non so, non so se sulla mia pagina, una redetta, sai quel video in diretta, quindi mi vedete alle ore 21, spettacolo vergognosissimo, Berto, Canesperto, Casa Gala, state a casa, ciao, 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 è sempre una roba vergognosissima.